Per i giudici della Corte di Cassazione, così come già deciso da quelli del Tribunale di Sorveglianza di Roma lo scorso anno, uno dei capistorici di Cosa Nostra Locale, il 57enne Davide Emanuello, è ancora pericoloso. Sussistono tutte le condizioni per la conferma del regime del carcere duro. I giudici romani hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa di Emanuello, che aveva impugnato la decisione dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza della Capitale, che lo scorso anno confermarono per altri due anni il 41 bis. Secondo il legale del 57enne, l'avvocato Valerio Bianello Accoretti, il tempo ormai trascorso e la continua detenzione di Emanuello lo avrebbero ormai del tutto allontanato dai contesti criminali, quello che fu tra i capi dell'omonimo gruppo di mafia, già ricevuto condanne definitive anche per omicidi, il suo è un fine pena mai. La difesa però non ha ritenuto fondate le ragioni della conferma del regime del 41 bis, è stata sollevata anche la questione di legittimità costituzionale della disciplina sul carcere duro, che come si legge nelle motivazioni rilasciate dai giudici di Cassazione va però di dichiarata inammissibile. Tra gli altri elementi, nelle motivazioni pubblicate i giudici citano l'assenza di un vero ravvedimento di Emanuello. Richiamano alcune intercettazioni dalle quali emerge l'esaltazione, scrivono i giudici di Salvatore Errina, definito un martire da Emanuello, ma anche la critica al Papa che invitò i mafiosi a pentirsi. Proprio per l'esaltazione del ruolo di un esponente di Cosa Nostra è ferato e spietato, come Salvatore Errina, scrivono ancora i giudici di Cassazione e le critiche mosse al Papa offrono evidente conferma del giudizio di elevata ed immutata pericolosità sociale per la perdurante adesione del ricorrente alla cultura mafiosa dell'omertà e alla strategia di opposizione violenta allo Stato. Così riporta la decisione dei giudici. Per la difesa invece Emanuello non avrebbe più alcun legame con le organizzazioni criminali e neanche i suoi familiari sarebbero mai stati coinvolti in indagini di questo tipo. La Procura Generale ha chiesto di respingere il ricorso della difesa, però tra gli altri punti sollevati dal legale del 57enne si indica che il caso del ricorrente sottoposto a continuato isolamento carcerario da oltre 25 anni dimostrerebbe l'illegittimità del trattamento. Per la Cassazione invece non ci sono le condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale e allo stesso tempo quelle per accogliere il ricorso che è stato respinto non sono emerse secondo i giudici neanche particolari condizioni di salute eventualmente incompatibili con l'isolamento carcerario.